La casa di Denis Dosio è andata a fuoco. Casa mia ha preso fuoco, è andata in fiamme. La casa era arrivata a oltre mille gradi. Una raccolta fondi che fa discutere. C'è una raccolta fondi, tutti per uno, uno per tutti. Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo, novissimo video davvero shock. La casa di Denis Dosio è andata a fuoco. Ed oggi ragazzi niente sarà vero, sarà falso, anche perché credo che non abbia senso ridere e scherzare su un argomento del genere. Perdere la casa o addirittura vederla a fuoco incendiata non è uno scherzo, non è una cosa bella e non c'è nulla appunto su cui scherzare. Prima di iniziare però come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte, dico tutte, le notifiche relative di cui pubblico tutti i giorni o quasi qui sul mio canale. Così di rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash e purtroppo anche su questi video shock. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio. Ed ovviamente anche su TikTok dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ed eccoci qua ragazzi, nuovo, nuovissimo video dedicato ad un argomento molto forte. Infatti oggi torniamo a parlare dopo giorni, mesi e anni di uno dei content creator più discussi in assoluto del panorama italiano. E parliamo proprio di lui, Dennis Dosio, che in questo ultimo anno ha fatto largamente discutere come dimenticarsi delle patatine del McDonald's proprio lì. Poi abbiamo parlato anche di un video che insomma qualcuno ha definito scandalo in un bosco. Ne avevamo parlato quasi forse, non lo so, qualche mese fa, non mi ricordo neanche più ormai. Ma insomma c'era la neve, quindi forse era inverno se non mi sbaglio. Ma, ma, diciamo che i colpi di scena quando si parla di Dennis Dosio non finiscono qui. Oggi avrei voluto parlarvi di un argomento trash come appunto quelli che insomma abbiamo visto anche negli ultimi video dedicati a Dennis Dosio, ad esempio le patatine del McDonald's. Ecco, purtroppo il tono del video di oggi non è così scherzoso. Perché dico così? Perché avete letto sicuramente il titolo di questo video e parliamo proprio di una casa andata in fiamme, che ha preso fuoco di un incendio sostanzialmente parliamo. E che cosa succede? Succede che in questi ultimi giorni non si è parlato d'altro, tantissimi quotidiani online hanno parlato proprio di questo. Credo che i primi in assoluto che ne abbiano parlato, almeno quello che ho visto io qua sui social, gli amici di Webbo, no? Che hanno condiviso, adesso anzi lo guardiamo insieme, hanno condiviso proprio un articolo che diceva Dennis Dosio è andata a fuoco la casa del creator, tra virgolette. Non è rimasto praticamente nulla e ovviamente gli amici di Webbo non sono gli unici ad averne parlato. C'è stato anche il Corriere della Sera di Bologna che ha scritto Grattacielo di Rimini in fiamme, l'incendio è partito dall'appartamento di Dennis Dosio. E poi anche Lego, un noto quotidiano online scrive Dennis Dosio, Grattacielo in fiamme a Rimini, il rogo è partito da casa sua. Tutto distrutto, sono sotto shock. Quindi capite che siamo di fronte ovviamente ad un avvenimento che fa caponare la pelle. Pensate se Dennis fosse stato lì in quella casa quando è successo questo orribile incendio. Ovviamente non era lì in quella casa perché se no il titolo sicuramente sarebbe stato ancora più tragico di questi articoli. Fortunatamente, dico fortunatamente, Dennis non si trovava in quella casa. Ma che cosa è successo? Beh, per rispondere a questa domanda dobbiamo prima vedere delle stories che sono state pubblicate per ultime in questa vicenda perché poi faremo un passo indietro per capire cosa invece è successo e cosa ha fatto arrabbiare tante tante persone qua sui social. Ma andiamo con ordine. Dennis racconta di questa casa andata in fiamme proprio sui social e lo fa con alcune stories nelle quali parla anche del fatto che la vita è davvero imprevedibile. Non si parla tanto che vada a fuoco oppure no una casa ma del fatto di trovarsi in quella casa. In realtà lui doveva trovarsi in quell'appartamento quella notte. Fortunatamente, grazie ad una persona, a lui cara, beh, diciamo che tutto questo non è avvenuto. Si è scampata, fortunatamente, una tragedia. Ma sentiamo quelle che sono state le parole a distanza di pochissime ore dall'accaduto proprio di lui, di Dennis Dosio. Guardate. Ok raga, ora voglio raccontarvi un aneddoto che ancora non ho raccontato a nessuno perché diciamo che ho vissuto un mini shock in questi giorni. Come sapete tutti quanti, casa mia ha preso fuoco, è andata in fiamme, si è distrutta tutta quanta e i pompieri mi hanno detto, una volta spento l'incendio, che la casa era arrivata a oltre mille gradi. Io non ero in casa fortunatamente in quel momento, non ero in casa perché ero andato a un corso per imprenditori il pomeriggio e mi trovavo più vicino a casa mia a Forlì piuttosto che quella a Rimini. Quindi con mia sorella che ha insistito affinché andasse a Forlì a dormire mentre io insistevo per andare a Rimini, l'ho ascoltata per non far sì che mi rompesse più di tanto e mi tormentasse il cervello e me ne sono andato a Forlì. Bene, questa casualità mi ha salvato la vita. E molto probabilmente se fosse stato lì dentro sarei finito sciolto. Stavo dicendo sciolto insieme a tutto il resto della casa. Questo cosa mi porta a pensare, cosa mi porta a volervi comunicare condividendo la mia esperienza che la vita è un dono, che la vita è casualità, che la vita è un'avventura e per quanto tale dobbiamo celebrarla ogni istante. Non dobbiamo dimenticarci che gli 86.400 secondi che abbiamo durante le nostre giornate dobbiamo sfruttarli nel cercare di essere più felici possibile, cercare di portare più gioia possibile nelle nostre vite perché è realmente guardando quello che è successo ho finalmente capito che potrebbe finire da un momento all'altro e questo mi fa arrivare a pensare che forse dovremmo concentrarci un po' più tutti sulla nostra felicità più che sui nostri conti in banca. Ecco, vedete, a volte le cose succedono e fortunatamente ci sono delle altre situazioni che ci impediscono di essere in un posto e quindi fortunatamente si scampa una tragedia, no? Veramente ho sentito tantissimi racconti simili a quello di Dennis Dosio, anche di persone che conosco. Dovevi trovarti in un determinato posto ma per un altro motivo qualcosa ti ha fatto rimanere doveri e è questione anche di secondi, a volte di minuti, no? Perché puoi trovarti nel posto sbagliato al momento sbagliato e non esserci veramente più. Quindi meno male, nella disgrazia ovviamente, che Dennis non si trovava in quella casa anche perché le immagini che ho visto non sono per nulla belle, veramente un vero e proprio rogo, ragazzi. Una casa completamente distrutta ed ovviamente vi dicevo prima che queste stories sono le ultime che Dennis ha pubblicato in questi giorni perché in realtà a distanza veramente di pochissimo tempo dall'accaduto Dennis aveva pubblicato altre cose sul suo profilo Instagram. Delle storie davvero molto forti perché aveva scritto perché proprio a me e poi ha scritto in parole molto semplici Casa mia ha preso fuoco. E dopo queste stories nelle quali si è chiesto perché proprio a me e soprattutto poi ha detto che casa sua era andata a fuoco Dennis decide di pubblicare una storia che da lì a poco ha fatto veramente tanto discutere. Questa storia diceva questo Se vi va di aiutarmi ho raccontato tutto qua e sotto in piccolo c'è scritto sono disperato. In un'altra storia leggiamo questo Se vi va di darmi una mano a sistemarla puntini puntini e si legge questo Go fammi, mini donazione, ho raccontato la storia dell'accaduto qui Scusate se stasera sarò assente ma non sono al top delle condizioni Tutti per uno, uno per tutti e appunto si tratta di una vera e propria raccolta fondi E in questo momento che io sto registrando questo video in realtà questa raccolta fondi è ancora attiva sul sito GoFundMe Ma c'è di più perché io sono andato a leggere ciò che aveva scritto Dennis Dosio E lui aveva raccontato tutto quello che era successo anche con un tono veramente molto forte e dispiaciuto Ciao, mi chiamo Dennis Dosio e oggi il mio mondo piange Questo era il mio primo anno felice dove ho imparato a vivere serenamente intorno ai disprezzi delle persone A non sprecare energie soffrendoci, ma usandole invece per pensare al mio futuro Da prossimo adulto, responsabile Un sogno che ieri, 21 ottobre, si è trasformato in un incubo ad occhi aperti Vedendo la mia casa, acquistata da qualche settimana con tutti i risparmi in mio possesso Bruciare sotto le fiamme E con lei anche il mio cuore, che pulsava così tanto da sostituirsi al rumore dei muri che sgretolavano Sono qui perché credo che ci sia ancora qualcuno che non speri che fossi stato dentro a quelle fiamme Ma che al contrario è disposto a tendermi una mano per aiutarmi a rimettere a posto Anche solo in piccola parte, la vita di un ventenne spezzata dalla cattiveria delle casualità Ho il divieto di entrare in casa fino a quando non sarà ricostruita da zero E visto che tutti i miei risparmi risiedono nei muri di quella casa, ho due possibilità Chiedere aiuto ai miei genitori, già sommersi da problemi, o chiederlo in piccola parte a tutti voi Mi sento solo e ingannato dalla vita Triste, malinconico, incattato, abbattuto Non importa se un euro o cento Se avete il piacere di aiutarmi, ve ne sarò debitore a vita Grazie Capite, questo racconto a cuore aperto di Dennis Dosio per quel che mi riguarda ha fatto breccia nel mio cuore Vi spiego molto semplicemente perché Inizialmente quando io guardo quella storia che lui pubblica e dice Se volete aiutarmi c'è la donazione su GoFundMe Faccio un po' quello che hanno fatto tante e tante persone E cioè, dico, ma come? Cioè, una persona che sta sui social, che lavora sui social e che soprattutto lavora anche con un social a pagamento Che è appunto OnlyFans Com'è possibile che chieda dei soldi al suo pubblico? Che in parte sono anche persone molto piccole o comunque insomma giovani, no? E quindi inizialmente il mio primo impatto è stato quello Caspita, una disgrazia assoluta il fatto di perdere la casa e di non avere più un tetto insomma sopra la testa, no? Però chiedere dei soldi sui social quando avevamo letto tanto tanto tempo fa Che insomma aveva guadagnato cifre importanti con i video su OnlyFans eccetera eccetera Diciamo che questa cosa un po' strideva, no? Poi ho letto tutta la descrizione di questa raccolta fondi E non vi nego che appunto leggere queste parole Leggerle nel modo in cui ve le ho lette proprio E con il dispiacere che mi immagino di Dennis Quando ha visto sgretolarsi la casa che aveva comprato con tutti i suoi risparmi Ho cambiato la mia idea Nel senso che a prescindere da quanto una persona possa guadagnare Magari veramente questo ragazzo ha preso tutti i suoi risparmi E ha fatto una cosa che in molti farebbero, no? Ho tanti soldi da parte E decido di investirli comprando una casa Che sostanzialmente alla fine è il tuo luogo, no? Dove vivi, dove abiti E soprattutto l'idea di casa è un luogo sicuro, no? Dove ti senti al sicuro Quando questo luogo viene a mancare Quando soprattutto questo luogo non c'è quasi più Perché appunto è andato in fumo Letteralmente in fumo Non penso sia semplice da gestire tutto quanto Quindi perché non credere al fatto che lui Non abbia veramente la possibilità economica al momento Di riuscire a sistemare tutto quanto nel breve tempo possibile Anche perché lo ha detto Finché la casa non verrà ristrutturata Non potrà entrarci, no? Quindi, adesso io non so come funzioni con tutte queste cose Sapete, no? Comunque se sei in un condominio Ma anche se sei in un'abitazione privata Singola da solo L'assicurazione dovrebbe forse pagare Non lo so Poi io non metto becco in questo Perché non so in che modo L'assicurazione posta debba oppure no pagare Eventuali danni, no? Però insomma Lui ha fatto un gesto anche se vogliamo Disperato, no? Cioè quello di mettere sui social Per veramente pochissimo tempo Perché poi ha cancellato queste stories Una raccolta fondi per farsi aiutare Ci sono state delle persone che hanno dato dei soldi Credo 25 euro Non sono tantissimi Ma sono comunque Insomma delle offerte, no? Poi il buio Il nero totale Nel senso che questa Appunto questa raccolta fondi È sparita dalle storie di Dennis Dosio Perché io mi chiedo? Cioè lui forse si è reso conto Di aver chiesto un aiuto Alle persone che lo seguono E si è sentito poi in colpa Di averlo fatto Per parlarvi appunto di questo Vorrei leggervi Quello che io ho pubblicato nelle mie storie Perché a un certo punto Che cosa succede Decido di scrivere questo tweet Se adesso lo trovo Magari anche meglio Eccolo qui Che ne pensate di Dennis Dosio Che ha indetto una raccolta fondi Per rimettere a posto La sua casa Andata in fiamme Nelle scorse ore E questo tweet L'ho messo anche nelle mie stories Di Instagram E ho appunto chiesto alle persone Che mi seguono Cosa ne pensate Cioè che ne pensate appunto Di questa raccolta fondi Fatta da Dennis Dosio Per risistemare casa sua E vi leggo Quelle che sono state Le risposte principali Allora Iniziamo con Imbarazzante Che se la paghi da solo Senza cattiveria Però è giusto così Invece di fare carità Sui social Da ricco Si trova una soluzione E va a lavorare Che poteva anche farne a meno Non ha bisogno Di questi soldi Gli dovrebbe dare In beneficenza Quei soldi Lui lì ha Il cash Per prendersi Un'altra casa Altri No Poteva evitare Mi sembra stupido Fare una raccolta fondi Solo perché Gli è andata a fuoco La casa Penso che deve usare I soldi che si guadagna E di non usare I fan Per i soldi Che non ha senso E che ci sono persone Che lavorano E danni Per rimetterla a posto Invece lui Tutto regalato In che ci sono persone Che donano Per questa causa Lo scemmo Non è di certo lui Sinceramente Non so il motivo Per cui è andata a fuoco Però credo sia un po' esagerato Poi Boh Non è giusto Se trova chi glieli dà Il problema Non è lui Che non gli servano Tutti questi soldi Si è bruciata la casa Non il conto in banca Penso che ci sono Le assicurazioni per questo E che guadagna Più di me E di chiunque altro Quindi stica Non sono d'accordo Per niente Non ha senso Anche perché Non mi sembra povero Ecco diciamo che Il sentiment generale È un po' questo No? Ma non ha senso Ma con che faccia Chiede i soldi Ai fan Lui persona ricca Che guadagna Con OnlyFans Eccetera eccetera Chiede i soldi Ai fan Ecco questo è un po' Quello che Le persone hanno pensato Qua sui social Io vi ho detto Ciò che penso E cioè che inizialmente Anch'io ero un po' Di quell'idea Poi mi sono messo Nei panni di una persona Che sta vivendo Una vera e propria tragedia No? E che magari In un momento Di disperazione Più totale Ha detto Ma sai che c'è Io magari Faccio una raccolta fondi La pubblico Vediamo se qualcuno Mi aiuta E se qualcuno Mi aiuta Grazie davvero Dal profondo Del mio cuore E cercherò Di sistemare Casa C'è poi Chi ha detto Vai a lavorare No? Ma una persona Che lavora sui social Ci lavora appunto E basta Non è che Si va a lavorare Nel senso Di fare Un altro lavoro Perché lui Già lavora Quindi Io credo che Il senso Della raccolta fondi Fosse appunto Un appello disperato Per gridare aiuto No? Cioè Sto vivendo un momento Del genere Mi è successa Questa cosa Per favore aiutatemi L'ho anche detto I suoi genitori In questo momento Non possono Perché hanno già Molti problemi E quindi Ha chiesto Liberamente A chi si sentiva Di poterlo E di volerlo aiutare Ad aiutarlo Quindi non è che Ha obbligato nessuno Cioè Cerchiamo anche di capire Ciò che è successo Arrivati a questo punto Io Non lo so Mi chiedo soltanto Come mai Dennis Non abbia poi più pubblicato Questa raccolta fondi Se era comunque Un progetto Che voleva Portare avanti Credo che Farsi aiutare In un momento Difficile Non sia Un qualcosa Di cui vergognarsi Anche perché Questo genere Di cose Potrebbe Insomma Succedere A tutti quanti Noi Quindi ragazzi Con questo Non voglio dirvi Andate Sugofanmi E date Tutti i soldi Che avete A Dennis Dozio No Ognuno è libero Di fare Ciò che vuole Personalmente Vi dico Che mi ha colpito Questo Questo racconto L'unica cosa Che mi sento Di dire Che non c'entra Nulla Con tutto Il discorso Dei soldi E quant'altro E che Meno male Che Dennis Veramente Non si trovava All'interno Di quella casa In quel momento Fatidico Di Insomma Di Di un evento Inaspettato Adesso però Fatemi sapere voi Qui sotto Nei commenti Cosa ne pensate Come sempre Perché vi ho ampiamente Parlato di tutto Quello che è successo E che non è successo E di questa Insomma Polemica Che c'è stata Sulla raccolta fondi Indetta Da Dennis Tozio Per la sua casa Andata in fiamme Il video può finire qui Spero tanto che vi sia piaciuto Se è così Lasciate un bel pollice In su Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E qui sotto Trovate tutti i miei social Dove potete seguirmi Io e Mark Vi salutiamo E noi ci vediamo In un prossimo video Vero Mark? Vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi noi Ci abbiamo provato Ciao